Esaminiamo un esempio di applicazione della legge di composizione delle velocità relativistica. Nel caso in cui ci sia da affrontare un problema di tipo bidimensionale, prendiamo il seguente esercizio di esempio. Allora, leggiamo il testo. È tratto da un famoso manga giapponese che andava a invocare negli anni Ottanta, si chiama Galaxy Express. Nel manga Galaxy Express 999 di Leji Matsumoto, il protagonista compie viaggi interstellari a bordo di un treno. Supponi che il treno viaggi alla velocità di 0,990C e che dal finestrino venga lanciato un oggetto alla velocità di 0,500C. Si tratta di quasi il 100% della velocità della luce, siamo al 99%, e del 50% della velocità della luce rispettivamente. L'oggetto è lanciato in direzione perpendicolare al moto del treno. Calcola il modulo della velocità dell'oggetto misurato da uno stelatore fermo e l'angolo che tale velocità forma con la direzione del treno. Fondamentale per poter comprendere come procedere con questo esercizio è fare uno schema dettagliato della situazione. Esaminiamo quindi cosa succede nel sistema di riferimento del treno. Rispetto alla figura che richiama il famoso cartone, noi facciamo uno schema più semplice del treno rappresentandolo con un rettangolo. Supponiamo che questo sia il sistema di riferimento del treno che chiameremo sistema di riferimento S'. In questo sistema di riferimento, la Terra, che supponiamo essere ad una certa distanza, non ha importanza quale, si sta muovendo verso il treno con una velocità che indichiamo con V. Questa velocità è una di quelle fornite dal testo dell'esercizio, precisamente 0,990C. Quindi il valore di V in modulo, lo riportiamo qui sotto, vale 0,990C. In pratica questo 0,990 è il valore di beta che andrà usato nelle formule relativistiche. In questo sistema di riferimento, dal finestrino al treno, viene lanciato un oggetto che noi adesso rappresentiamo in blu. Supponiamo una pallina, un sasso. E questo oggetto ha una velocità diretta perpendicolarmente alla direzione di moto del treno, quindi alla direzione longitudinale per il treno, che indichiamo con U'. Questa è la velocità di questo oggetto misurata nel sistema di riferimento S' del treno. E sappiamo anche che U' vale 0,500C. Il doppio zero sta a indicare che stiamo lavorando a tre cifre significative. Quindi 0,500 è la frazione della velocità della luce, metà. Ora dobbiamo esaminare quello che succede nel sistema di riferimento della Terra. Chiaramente le velocità cambiano e si vuole sapere nel sistema di riferimento terrestre come cambia in particolare la velocità U'. E allora, facciamo lo schema immediatamente sotto a quello che abbiamo visto. Adesso rappresentiamo nuovamente il treno, quindi lo riproduco identico e lo vado a mettere qui sotto. Solo che adesso il treno va pensato con una velocità diretta verso la Terra. La Terra si trova qui, stavolta siamo nel sistema di riferimento della Terra, che indichiamo come sistema di riferimento S. In questo sistema di riferimento la Terra è ferma. Il treno si muove con velocità diretta verso la Terra, dobbiamo capire come si muove il sasso. Il sasso si trova qui. La sua velocità chiaramente risente del moto relativo Terra-Treno. Quindi sarà orientata in una direzione obliqua. In questa rappresentazione dobbiamo considerare che questa velocità si scompone in due parti. Una perpendicolare al treno, alla direzione del moto Terra-Treno, e una parallela alla direzione del moto. Noi dobbiamo capire quanto valgono rispettivamente ux e uy. Il vettore in verde rappresenta il vettore velocità u. E poi abbiamo le componenti uy, verticale, e ux, orizzontale. Dobbiamo capire come sono fatte queste due componenti. E poi, in base a quanto c'è scritto nel testo, vuole sapere anche che angolo forma la direzione della velocità rispetto alla direzione del treno. Quindi siamo interessati a trovare quest'angolo, che indichiamo con α. Per poter calcolare l'angolo α, bisogna lavorare con un po' di goniometria, conoscendo le componenti ux e uy. Quindi è fondamentale trovare queste componenti. Andiamo a richiamare le leggi di trasformazione della velocità di natura relativistica. In questo caso, per le componenti ux e uy, bisogna richiamare delle formule che fanno uso delle componenti ux' e uy' misurata nel sistema di riferimento del treno. Queste le possiamo stabilire in base alla situazione che abbiamo geometricamente descritto all'inizio. La componente verticale della velocità è diversa da 0 ed è pari esattamente a u', cioè 0,500c. E invece la componente orizzontale è nulla. Quindi possiamo qui scrivere che la componente orizzontale è 0 e la componente verticale vale esattamente u', cioè 0,500c. O possiamo anche scrivere un mezzo c, visto il valore 0,500. A questo punto andiamo a scrivere le leggi di trasformazione. Per la componente orizzontale e per quella verticale, o meglio, per la componente parallela alla direzione del moto del treno, che è quella che abbiamo indicato con la x, si ha una correzione che non contiene il fattore γ, cioè abbiamo 1 più u'x v fratto c² al denominatore, e sopra c'è un'espressione che richiama la legge classica di composizione delle velocità, cioè alla velocità ux' va sommata la velocità del moto relativo. Invece per la componente y abbiamo una legge simile con una differenza importante. Sulle componenti perpendicolari alla direzione del moto relativo compare il fattore γ, in particolare compare sotto. Quindi lo stesso fattore correttivo, 1 più ux' v fratto c², va riportato, però al numeratore abbiamo uy' senza chiaramente la correzione v, perché la correzione v è sulla direzione orizzontale, quindi non c'è nel caso di quella verticale, e compare il fattore γ, che quindi si presenta nella forma, ma lo specifichiamo in funzione della velocità, uy' moltiplicato alla radice di 1 meno β², e sotto scriviamo la stessa espressione che compare nella legge. Eccoci qua. Ricordiamoci che γ ha portato alla comparsa di questo fattore, perché γ è 1 fratto la radice di 1 meno β², dove β è il rapporto v su c, tra la velocità del moto relativo e c, e chiaramente β, abbiamo già detto, vale 0,990. A questo punto passiamo al calcolo numerico di queste componenti. Per quanto riguarda ux' come vediamo è 0, e quindi questo 0 se ne va qui. come anche qui. E quindi nel calcolare ux abbiamo 0 più v fratto 1 più 0 per v fratto c², e quindi, data la presenza di questi zeri, vediamo che la componente x della velocità è pari alla velocità del moto relativo. Per quanto riguarda invece la componente y, lo facciamo qui sotto, e qui chiaramente compare il fattore γ, quindi lo riportiamo. ux' l'abbiamo visto, ha questo valore, un mezzo c, e quindi lo andiamo a riportare qui sotto. un mezzo c moltiplicato la radice di 1 meno beta quadro, poi la sostituzione numerica la faccio dopo, e sotto abbiamo lo stesso fattore correttivo, 1 più ux' per v fratto c². e di conseguenza anche in questo caso ux' è nullo. Quindi, adesso facendo la sostituzione dei valori numerici, otteniamo, intanto il denominatore è pari a 1, quindi lo possiamo scrivere senza riportare tutte le grandezze che sono qui al denominatore, scriviamo semplicemente 1. Per cui rimane soltanto il numeratore, un mezzo c, che moltiplica la radice di 1 meno beta quadro, dove beta è 0,990, quindi adesso ci serve una calcolatrice, che adesso andiamo a prendere, un mezzo c per la radice di 1 meno 0,990 al quadrato, 1 meno 0,99 al quadrato, uguale, e otteniamo 0,0199, che riportiamo qui sotto, un mezzo c per la radice di 0,0199, estraendo la radice quadrata, otteniamo 0,141 a tre cifre significative, come quelle riportate al libro di testo, quindi un mezzo c per 0,141, e dividendo per 2, un mezzo, 0,0705 c. 0,0705 c. Non c'è bisogno di moltiplicare per il valore della velocità della luce, tanto tutte le velocità in questo esercizio sono espresse in funzione di quella della luce, quindi ci interessa avere questo risultato numerico. adesso mettiamo insieme la componente orizzontale e quella verticale per sapere quanto vale l'angolo di cui abbiamo discusso precedentemente. quest'angolo alfa va trovato utilizzando la tangente dell'angolo con il rapporto tra la componente verticale e la componente orizzontale. e quindi tornando a noi abbiamo tangente dell'angolo alfa uguale uy fratto ux. occorrerà fare l'arco tangente di quest'angolo per sapere quanto vale l'angolo. e facciamo il rapporto a 0,0705 diviso 0,99. questo è il risultato. facciamo la funzione inversa della tangente. ovviamente abbiamo 4,07, la calcolatrice è tarata in gradi, quindi abbiamo un angolo di 4,07 gradi. questo per quanto riguarda la direzione rispetto a quella orizzontale. se poi dobbiamo ragionare sul modulo, la velocità u è pari alla radice quadrata di ux al quadrato più uy al quadrato, cioè la radice quadrata di 0,990 al quadrato più 0,0705 al quadrato, tutto moltiplicato per c. 0,99 al quadrato più 0,0705 al quadrato uguale, di questo eseguiamo la radice quadrata e otteniamo 0,9925, cioè a tre cifre significative 0,993, che quindi risulta il valore, e chiaramente bisogna mettere c, il valore della velocità misurata in unità di quella della luce, e come vediamo è ancora minore della velocità della luce. in questo modo abbiamo visto in un caso bidimensionale quello che succede nella composizione delle velocità e viene rispettato il principio di relatività secondo il quale nessuna composizione può portare a velocità superiori a quella della luce. Grazie e arrivederci alla prossima!